Salve e benvenuti a Fatima Oggi, il nostro ospite speciale è Padre Paul Kramer. Grazie, abbiamo parlato del nostro programma, Padre Kramer. Abbiamo parlato nel corso delle nostre puntate del suo libro Il mistero dell'iniquità e del suo significato, ma c'è gente che ritiene che si tratti di un libro troppo difficile, che sia adatto solo agli studiosi della materia. È vero? Tra l'altro, se non erro, ha oltre 500 note a citazione di altre pubblicazioni. Il mistero dell'iniquità, come si può leggere nel suo sottotitolo? Ha a che fare con i contenuti geopolitici, diciamo, del terzo segreto di Fatima. Quindi parla di diplomazia, di movimenti militari in paesi come l'Iraq o l'Afghanistan, ma questo come può riguardare la gente che vive, che so, in Italia, in Europa o nel mondo occidentale? Purtroppo, l'informazione strumentalizzata e asservita alla finanza massonica fornisce all'opinione pubblica una visione distorta e quasi a compartimenti stagni di ciò che sta accadendo in vari luoghi del pianeta. Questi eventi ci vengono presentati come se non avessero un legame tra loro, mentre dietro di essi esiste un progetto chiarissimo. Basta leggere alcuni documenti del governo americano ideati da cosiddetti esperti di politica internazionale. Sono loro a dettare la politica estera. Ad esempio, quella degli Stati Uniti è dettata dal Consiglio per le relazioni con l'estero, a sua volta a costola del britannico Royal Institute of International Affairs. Più in alto saliamo nella piramide del potere massonico, più arriviamo a vedere una direzione centralizzata che gestisce e pianifica dall'alto tutto ciò che avviene nel mondo. Oggi vengono fatte scoppiare ad arte tutta una serie di disordini e sommosse destabilizzanti che stanno causando ciò che ha predetto la Madonna in molte sue apparizioni, la più importante delle quali è quella di Fatima. Nel terzo segreto, infatti, la Madonna descrisse un tremendo scenario di guerra mondiale, ma non è detto che questa debba per forza scoppiare, perché grazie alla Madonna abbiamo uno strumento per evitarla. È stata proprio la Madonna di Fatima ad averci dato il modo per impedire tutto questo. Ma dobbiamo agire al più presto. Adesso si sta infatti addensando una tempesta perfetta, una catena di eventi che potrebbe far piombare il mondo in una guerra catastrofica, arrivando addirittura al crollo della civiltà per come la conosciamo. Mi pare che lo stesso Papa Benedetto XVI, il 20 dicembre 2010, abbia detto la stessa cosa, giusto? Sì. Papa Benedetto, nel suo messaggio per l'Avvento, ha paragonato i nostri tempi a quelli della caduta dell'Impero Romano. Impero Romano che crollò rovinosamente in pochissimo tempo, quasi dal giorno alla notte. Si disintegrò. E molto velocemente. Passò per un processo di dissoluzione, ma una volta cominciato fu irreversibile e alla fine crollò inesorabilmente. Quindi quel che sta dicendo... Papa Benedetto ha riassunto il concetto, dicendo che il sole sta sorgendo sul mondo intero, paragonando la nostra civiltà del XXI secolo a quella dell'epoca romana. E ci ha messi in guardia contro il rischio di un crollo delle strutture politiche e giuridiche mondiali. Per spiegare meglio ai telespettatori, quando parla di strutture politiche e giuridiche, a cosa si riferisce esattamente? Mi riferisco ai governi attualmente in carica, che verranno spazzati via dalla faccia della terra. Quindi in altre parole sta dicendo che i sindaci, le varie amministrazioni locali e persino il governo della Repubblica Italiana potrebbero essere rovesciati o passare sotto il controllo di bande armate o cose del genere. Chi potrebbe fermarli se non ci saranno più i governi a farlo? È così? Il mistero dell'iniquità è la traduzione fatta da San Girolamo di un termine usato da San Paolo. In realtà, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, scritta in greco, San Paolo lo definì il mistero dell'illegalità. Quel che vediamo accadere oggigiorno in tutto il mondo è la sistematica destabilizzazione della nostra civiltà allo scopo di far cadere il mondo nel caos. Il loro motto è proprio Ordine dopo il caos. Cercano di provocare il caos totale affinché, dopo di esso, possano instaurare un nuovo ordine mondiale. Si tratta di un'entità già descritta da San Pio X nel 1904 nella sua lettera enciclica Notre Charge Apostolique, nella quale il pontefice smaschera il progetto di creare un governo mondiale e una falsa religione demoniaca che verrebbero imposti a tutta l'umanità, risultando in una sistematica oppressione dei poveri e delle classi lavoratrici. Questo è ciò che ci attende, se non obbediremo alle richieste della Madonna di Fatima. La Madonna di Fatima ci ha innanzitutto chiesto di pregare tutti i giorni il rosario, di indossare lo scaporare della Madonna del Carmelo e di conservarci al cuore immacolato di Maria, ma ha chiesto soprattutto al Santo Padre e ai Vescovi di consagrare la Russia al suo cuore immacolato. Non ci vogliono più di cinque minuti per una simile cerimonia, basta recitare questa formula in modo pubblico e formale, consacrando il popolo della Russia al cuore immacolato di Maria. Dobbiamo adempire alle sue richieste per ottenere dal cielo la grazia della conversione di quel popolo, perché la richiesta fondamentale della Madonna è che la gente smetta di offendere Dio. Se la gente indulge in una vita peccaminosa e senza Dio, hanno bisogno di altri che preghino, si sacrifichino e compiano penitenza per loro. In questo modo riusciremo ad ottenere la grazia della conversione di quelle persone, ottenendo la grazia efficace di Nostro Signore, per mezzo della quale il Papa e i di Vescovi consacreranno infine la Russia al cuore immacolato di Maria. Ma la Madonna ci ha anche messo in guardia dalle conseguenze che si verificheranno nel caso in cui tutto ciò non accada. Ne ha parlato in tante altre apparizioni e nelle rivelazioni di molti santi. Vi sarà un periodo di grandi tribolazioni per l'umanità, come mai prima d'ora nella sua storia. E lo stesso Gesù a parlarci di questa tribolazione nel Vangelo parla di terremoti e guerre tra i vari popoli. Gesù disse che si sarebbe sollevato popolo contro popolo, che avremmo sentito parlare di guerre e di rumori di guerre, che ci sarebbero state carestie e terremoti in vari luoghi del mondo. Disse allora che vi sarebbe stato odio per i cattolici, che avrebbero appattito sofferenze e sarebbero stati uccisi, ma che tutto questo era solo l'inizio delle tribolazioni, a detta di Nostro Signore. Solo l'inizio. Quindi c'è qualcosa di peggiore di guerre, carestie e massacri. Gesù sta dicendo a noi fedeli cattolici che verremo giudicati e perseguitati per il solo fatto di essere cattolici, per essere rimasti saldi nella nostra fede. Lo possiamo vedere nella prima parte del Terzo Segreto, che è stata pubblicata ormai undici anni fa. in essa c'è la visione di una persecuzione universale e sanguinosa contro la Chiesa Cattolica. Si tratta di uno sterminio, una persecuzione genocida compiuta contro la Chiesa Cattolica. In altre parole, significa che se sei cattolico, questo basterà per mandarti davanti a un protone d'esecuzione? È già successo molte volte in passato e accade anche oggi in Cina. Conosco personalmente un sacerdote che si rega segretamente in Cina per praticare il suo ministero sacerdotale nella Chiesa Clandestina. Mi ha raccontato delle terribili torture che subiscono i sacerdoti quando vengono catturati dalle autorità comuniste. Li legano ad una macchina e li trascinano sull'asfalto fino alla morte. Terrificante. Sono cose che accadono oggi, allo stato attuale, nella Cina comunista. E il messaggio della Madonna di Fatima ci avverte proprio di questo. Cioè che è questo ciò che attende l'umanità se non otterremo prima la conversione della Russia. Poiché quella nazione potrebbe essere lo strumento di castigo per l'intera umanità. Oppure, attraverso la sua conversione, l'arma con cui verrà uccisa la bestia dell'apocalisse. La bestia dell'apocalisse, che non è altro se non la massoneria che sta fomentando guerra in tutto il mondo. Le ho chiesto prima dell'Afghanistan e dell'Iraq, paesi dove abitualmente c'è la guerra e del fatto che ci sembrano piuttosto lontani. Ma la Libia è molto vicina, specialmente all'Italia, e questo dovrebbe preoccuparci non poco. Lei mi diceva che tutte queste insurrezioni sono state fomentate e organizzate allo scopo di portare ad una guerra mondiale. È così? Esiste un complotto ben preciso dietro a tutte queste insurrezioni. Se si analizzano i contenuti, si scopre che questo complotto ha lo scopo di far scoppiare una guerra mondiale. e stiamo parlando di cose che stanno già avvenendo. La stampa e i governi ci presentano un'informazione fuorviante e asservita e mi tocca passare molto tempo a ricordare alla gente che ciò che dicono i governi e i mass media su quel che accade nel mondo è un'immagine assolutamente distorta della realtà, una caricatura di ciò che sta avvenendo realmente. Una delle tattiche usate dalla massoneria è proprio quella di ingannare, di tenere nascosto. Ci hanno fornito quest'immagine fuorviante e assolutamente falsa di una serie di conflitti scollegati tra loro che scoppiano qua e là in varie parti del mondo, magari orditi da un gruppo di terroristi di cui dobbiamo avere paura, ma che verranno sicuramente spazzati via dalle forze di cooperazione internazionali che ristabiliranno l'ordine e la sicurezza in tutto il mondo. Sono tutte menzogne. Se andiamo a leggere i documenti scritti da gente come Donald Rumsfeld, segretario della difesa durante la presidenza Bush, possiamo trovare ben delineati i progetti di destabilizzazione delle nazioni più stabili del mondo islamico, allo scopo finale di fomentare uno scontro di civiltà, cioè quello di far sollevare l'intero mondo arabo contro l'Occidente. In tanti pensano che si tratti di una teoria esagerata e che il mondo islamico non abbia le capacità militari per fare una cosa del genere. Ma ora che si è formata questa tempesta perfetta, guardiamo a cosa sta succedendo all'economia del mondo in generale e in particolare a quello della zona dell'euro. Molti non lo sanno, ma gli Stati Uniti si trovano in una situazione economica addirittura peggiore di quella europea. Alcuni tra i più importanti analisti economici del mondo hanno predetto che il collasso dell'economia americana e di quella europea sono imminenti. Stiamo parlando di un'inflazione insostenibile, in una scenario in cui la gente comune non può più andare a comprare il latte o il pane per i propri figli o per se stessa perché i negozi non accettano più la loro moneta in quanto priva di qualsiasi valore. È accaduto già in passato, in Germania, dopo la prima guerra mondiale, quando il marco tedesco non voleva più neanche quanto la carta su cui era stampato. Gli eventi stanno già precipitando e aspettate il crack perché è alle porte. Questi eventi stanno già accadendo, sta tutto precipitando verso un crollo e aspettate di vedere il crack. In Grecia, come in Inghilterra, stanno già tagliando molti dipendenti delle forze di pulizia, stanno chiudendo gli uffici postali, in tutta Europa chiudono gli esercizi commerciali, ogni giorno falliscono decine e decine di aziende. La disoccupazione è a livelli altissimi e anche chi ha un lavoro può perderlo dal giorno alla notte, finendo nell'incubo del precariato o della disoccupazione. Non si parla solo di bancarotta, ma di rovina totale, cioè finire per strada e diventare un barbone, senza una casa o un qualsiasi mezzo di sostentamento. Negli anni passati in questi paesi nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbe potuto arrivare a protesto, a rivolte per avere qualcosa da mangiare, ma quando mancano il lavoro, la casa e il cibo stesso per sfamarsi, è facile che si formi una massa che protesta e che si rivolta. Abbiamo già visto dimostrazioni di massa in tutta Europa, in Grecia ci sono stati diversi tumulti, ma sono parecchi i paesi sull'orlo del collasso, oltre a Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e anche l'Irlanda. Ma non trascurerei neanche l'Inghilterra, perché anche essa è a rischio. Insomma, stiamo parlando di un collasso della società in paesi a noi vicini. Non si tratta solo di guerre in luoghi lontani, ma sommosse tumulti che ci riguardano da vicino. La gente non è più in grado di mangiare o di vivere una vita civile e serena, perché prima o poi dovrà proteggere se stessa e i propri cari da bande di sciacalli e di rivoltosi, e la polizia non sarà a difenderli, perché anche essa avrà subito pesanti tagli al personale. Quando crollerà il sistema economico e quello giuridico, cioè in sostanza quando crollerà il tessuto stesso della società, quello sarà il momento in cui scoppieranno le rivolte accuratamente progettate in anticipo, affinché il mondo islamico e quello occidentale si scontrino l'uno contro l'altro. Il mistero dell'iniquità è in serbo un progetto ben preciso per tutti noi e purtroppo sta già venendo implementato, ma la gente non riesce a vedere oltre alla cortina fumogena innalzata dai governi e dai mass media, non vede oltre. Il fatto è che i giornali e i mass media sono in mano a pochissime persone, a gruppi economici, a famiglie di potenti che hanno tutto l'interesse a far sì che si avverino queste rivolte, fomentando un quadro generale di stabilità e di guerre, ma lasciando al tempo stesso l'opinione pubblica all'oscuro. Non è così? Certo, sono stati molto chiari già in passato. Il loro scopo è quello di fomentare il disordine ed il caos e da quest'ultimo creare un nuovo ordine mondiale, cioè un unico governo mondiale oppressivo e dittatoriale. Questo loro progetto si può leggere tranquillamente negli scritti che ho documentato nel mio libro. È questo il loro scopo e lo annunciano senza pudore, ma anche il Vangelo ce l'ha pronunciato, così come i Santi e lo stesso San Piodecimo che nel 1904 ci mise in guardia proprio contro quel che sta avvenendo oggigiorno. Anzi, addirittura all'epoca parlò del timore che l'Anticristo stesse già camminando tra noi. E ora anche Papa Benedetto XVI dice le stesse cose. Lo ha fatto nel discorso alla Curia e ai suoi più stretti collaboratori in Vaticano che si tiene ogni anno in merito alla situazione mondiale. Che cosa ha detto di preciso in quel discorso? Sì, si tratta del discorso pronunciato da Benedetto XVI il 20 dicembre 2010. Il Papa sembra rendersi perfettamente conto di quel che sta accadendo. Siamo ormai sull'urlo del collasso. Questa è la sostanza delle sue parole. Parole che non ho mai sentito pronunciare da altri papi dei nostri tempi. Sappiamo come avrà inizio questa reazione a catena perché assieme al collasso ci sarà il crollo dell'economia della zona dell'euro e di quella degli Stati Uniti. Si tratterà della proverbiale goccia che fa travocare il vaso. A quel punto si fermerà la produzione di greggio in Medio Oriente. Questo sta già avvenendo a causa delle sollevazioni in Medio Oriente ed è stato già tutto pianificato in anticipo. Non si tratta di ribellioni orchestrate da ribelli locali di questi paesi arabi ma fanno tutti parte di un progetto architettato dalla CIA e dalla massoneria. In ultima analisi dalle elite della finanza mondiale cioè gente ai vertici delle più grandi multinazionali al mondo. Quest'elite nell'ottomere 2010 mise nero su bianco l'intenzione di destabilizzare il Medio Oriente un evento che si è puntualmente verificato solo pochi mesi dopo. È stata una crisi costruita a tavolino perché la si conosceva con almeno quattro mesi di anticipo. Come provato da diversi studiosi queste rivolte sono state finanziate e architettate dalle potenze occidentali. Igor Mokiov dell'Accademia Russa delle Scienze ha portato numerose prove alla trasmissione televisiva Russia Today secondo le quali dietro alle sollevazioni in Medio Oriente ci sarebbe in realtà l'Occidente interessato a mandare in bancarotta i paesi arabi e a fermare la produzione di petrolio per aumentarne il prezzo. Sì ma è ovvio il loro intento è capitalizzare questa crescita del valore del petrolio e fare molti soldi. Stiamo parlando di miliardi e miliardi di dollari ma a detrimento di tutti quanti gli altri vogliono portare l'Europa dell'America nella situazione di caos più totale e tutto questo a loro favore per la creazione del loro governo mondiale. Ma se si ferma la produzione di petrolio in Medio Oriente esistono scorte sufficienti per ripensarlo? Certo che esiste una produzione sufficiente a coprire il fabbisogno. il progetto è tutto nel far alzare il prezzo del petrolio come è stato ribadito già un anno prima di queste sommosse in Medio Oriente. La cosa più sorprendente è che questo progetto fu ideato in realtà oltre 30 anni fa. All'epoca furono trovati enormi giacimenti petroliferi in Alaska e in altri luoghi del Nord America che contengono più petrolio di quanto ce ne sia in Medio Oriente. Ma quei giacimenti vennero classificati top secret dal governo americano e furono tenuti segreti dalle compagnie petrolifere e dalle istituzioni finanziarie che le controllano. Quest'ultime idearono un progetto secondo il quale dopo circa 30 anni avrebbero fatto aumentare il prezzo del petrolio a livelli altissimi e avrebbero poi mandato in bancarotta i paesi arabi. Dopodiché una volta interrotta la produzione del petrolio arabo avrebbero immesso sul mercato il petrolio americano tenuto nascosto per anni e prodotto a basso prezzo vendendolo a prezzi altissimi. Tutto questo nel frattempo comporterà un collasso dell'economia mondiale per via dell'aumento enorme dei costi di produzione in pratica si alzerà il costo di ogni cosa a causa dell'aumento del prezzo del petrolio. Non solo un collasso economico ma questo comporterà la rovina della civiltà per come la conosciamo. Ma cosa succederà? Vuol darci un esempio? Certo come ho detto il primo elemento è l'interruzione della produzione di petrolio in Medio Oriente ora come ora siamo sull'urlo di questo collasso ma quando il prezzo del petrolio salirà ancora più in alto quando vedremo interrompersi la produzione di petrolio in Medio Oriente quando il prezzo dell'oro salirà in breve tempo del 25% allora di lì a poco collasserà l'intera economia europea e successivamente quella americana. Questa crisi economica scatenerà una reazione a catena gli arabi si sentiranno imbrogliati e colpiti a tradimento reagendo con la forza delle armi già Gheddafi per esempio aveva minacciato l'Europa per l'aggressione contro la Libia da parte delle potenze occidentali ma non è stato il solo vi sarà un conflitto tra paesi arabi e paesi europei ma questo andrà oltre l'Europa l'hanno progettato in anticipo ogni paese occidentale in pratica ne subirà le conseguenze tutto questo è stato predetto dalla Madonna a Suor Elena Aiello che citi un'apparizione della Madonna può sembrare strano per uno spettatore moderno ma si tratta purtroppo di una reazione comune causata dal condizionamento che ci è stato imposto dai mass media purtroppo non riusciamo più a percepire una visione globale di quel che sta accadendo nel mondo del fatto che si tratti di una cosa orchestrata da tempo e nei minimi dettagli ma più importante ancora del fatto che si tratti di un progetto pubblicato ed annunciato già nelle sacre scritture nel Vangelo si può leggere di questo complotto che sarebbe culminato nel mistero dell'iniquità cioè un governo empio e anticristiano ha parlato di suor Elena Aiello ci può dare qualche informazione su di lei so che è vissuta in Italia ed è morta nel 1961 si suor Elena Aiello è morta nel 61 la Madonna le è apparsa e le ha parlato in diverse occasioni è molto conosciuta negli ambienti cattolici italiani le sue profezie provengono quindi dalla Madonna può dirci qualcosa sulla notura di queste profezie su quello che accadrà nel prossimo futuro suo re Elena Aiello predisse una nuova guerra mondiale che si propagerà da Oriente ad Occidente la Russia occuperà tutta l'Europa e prima che questo accada o forse contemporaneamente gli arabi invaderanno l'Europa meridionale in particolare l'Italia la Sicilia e la Romagna saranno le regioni più colpite da questo attacco arabo Roma verrà messa sotto assedio ma non cadrà fino a quando i russi non l'avranno invasa facendo sventolare la bandiera russa sulla cupola di San Pietro vi sarà una sanguinosa persecuzione contro la Chiesa e ci saranno disordini in tutta Europa che sarà occupata dalla Russia anche l'Inghilterra verrà occupata da forze straniere sta parlando della nostra epoca giusto tutte queste profezie si riferiscono alla nostra generazione forse non accadranno tra umani o tra una settimana ma potrebbero benissimo verificarsi tra un mese o due non è così se osserviamo i segni della nostra epoca possiamo vedere chiaramente una reazione a catena di eventi che condurranno ad una guerra mondiale e infine ad un governo mondiale a meno che la consacrazione della Russia non venga eseguita in tempo come ho detto questi eventi sono l'interruzione della produzione di petrolio in Medio Oriente l'escalation delle insurrezioni nei paesi arabi l'improvviso aumento del prezzo dell'oro a quel punto sapremo che il collasso dell'economia è vicino il collasso finanziario il crollo dell'euro e del dollaro perché il prezzo dell'oro sarà troppo alto sì è il collasso della legge e dell'ordine fa tutto parte di questa catena di eventi che è stata predetta in moltissime profezie ricordiamoci cosa dicono le scritture non v'è nulla che accada in questo mondo senza che Dio non l'abbia prima rivelato ai suoi profeti siamo arrivati alla fine della nostra puntata grazie per la sua spiegazione padre Kramer nella nostra prossima trasmissione parleremo di quanto sia reale e vicina per tutti noi questa rivoluzione imminente alla quale purtroppo potrebbe seguire una guerra mondiale e poi la tirannia e le persecuzioni tutto questo a meno che il Papa e i Vescovi non compiano in tempo una semplice cerimonia della durata di soli cinque minuti la consacrazione della Russia è fondamentale che avvenga quindi ricordate sempre che la Madonna di Fatima ci ha chiesto di pregare il rosario tutti i giorni anche per evitare che si avveri ciò di cui abbiamo parlato arrivederci alla prossima puntata che Dio vi benedica God bless you Grazie a tutti.